La guerra franco-prussiana scoppiò il 19 luglio 1870 per delle ragioni che oggi considereremo futili, ossia a causa del mancato accordo tra le potenze per la successione al trono di Spagna. La Prussia proponeva un parente del re Guglielmo I, mentre l'imperatore Napoleone III ne era fortemente contrariato. Ma seppur Guglielmo I preferì rinunciare alla proposta, il cancelliere Bismarck, manipolando il dispaccio, rese la risposta ufficiale e riguardosa agli occhi dei francesi. Ciò scatenò le ire di Napoleone III che fece mobilitare le truppe scatenando la guerra. Tuttavia la guerra non andò secondo i piani previsti dai francesi perché i prussiani mostrarono subito la loro superiorità sul campo tramite una serie di vittorie che sfoceranno poi nella disfatta di Sedan e nella cattura dell'imperatore Napoleone III. Questa sconfitta determinò il crollo dell'impero e la nascita della III Repubblica Francese, ma questi mutamenti radicali non fermarono la guerra che proseguì ancora più duramente trasformandosi in un assedio alla capitale. Parigi venne così bombardata per quattro mesi e ridotta letteralmente alla fame. Per sopravvivere i parigini dovettero uccidere gli animali dello zoo pur di sfamarsi. A causa del blocco venne sperimentato per la prima volta il collegamento postale con il resto della Francia utilizzando un pallone aerostatico, il cosiddetto Ballon Monté, che riusciva a superare le linee nemiche senza troppi intoppi. L'armistizio e quindi la capitolazione di Parigi venne accettata il 28 gennaio 1871 decretando la proclamazione dell'impero tedesco da parte del re Guglielmo I dalla Galleria degli Specchi della regia di Versailles. La pace con i prussiani venne poi firmata il 10 maggio 1871 con la ratifica del Parlamento francese.